Ciao da Vittorio, immagino che tutti voi abbiate ascoltato l'intervista di Maurizio Sarri ieri sera a Sport Italia. Ecco, vorrei fare un paio di riflessioni secondo me importanti su quello che ha detto il nuovo allenatore della Lazio. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso da Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla prima squadra capitale. Quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che ricevi una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. L'avete sentito tutti immagino Maurizio Sarri a Sport Italia. Un'intervista interessante, non ha parlato di Lazio anzi praticamente niente anche perché ed è stato molto corretto ha detto vuole parlare di Lazio il giorno della sua presentazione ufficiale. Però si è parlato tanto di calcio, ecco secondo me già qua abbiamo visto la grande differenza fra lui e Simone Inzaghi. Attenzione, non voglio dire che Simone Inzaghi non sia un buon allenatore, però secondo me è proprio una differenza di filosofia calcistica. Inzaghi punta a vincere, Sarri ovviamente vuole vincere ma con un'idea di gioco ben precisa, con un concetto di calcio. Quello è secondo me il punto importante. Molti dicevano giustamente anche che la Lazio di Inzaghi giocasse bene a calcio. Questo è successo lo scorso anno e due anni fa tratti quest'anno, l'ultima stagione, non così tanto. Secondo me la Lazio giocava bene a calcio grazie all'individualità. Non era un concetto di calcio da squadra, era più il talento di Luso Alberto, Menico e Savic, Ciro e Mobile che facevano questa Lazio imbattibile se volete. Comunque giocare molto bene a calcio. Invece l'idea di Sarri è tramite il gioco collettivo esaltare le individualità. Che è un concetto ben diverso. La squadra deve sapere come giocare a calcio, che è diverso dalla squadra deve sapere i movimenti di Luisa Alberto e Ciro e Mobile. Perché poi la Lazio era quella. L'idea era palla a Luisa Alberto e poi lui inventava sapendo che Ciro e Mobile andava in profondità, eccetera. Invece il concetto di Sarri è quello di giocare un calcio divertente, strutturale su tutta la squadra e non in base a quei due o tre talenti. E poi ovviamente con il collettivo che gioca a calcio, che cerca le soluzioni provate, esaltare il talento dei campioni, dei giocatori di qualità. Che saranno Luisa Alberto, Menico e Savic e Ciro e Mobile. C'è una bella differenza. E poi c'è un passaggio che a me è piaciuto molto e mi ha colpito tanto, non so se vi ha colpito anche a voi. Ovvero il concetto di squadra e di giocatori. Sarri ha detto che la squadra non è la somma del valore dei giocatori. A volte il valore della squadra è superiore, a volte inferiore. Questo dipende se i giocatori giocano da squadra o pensano solo a se stessi. Chiaro riferimento a Cristiano Ronaldo, fatto, no? Il problema è che la Juve ha tanti giocatori di qualità, ma non giocavano insieme da squadra. Ecco, l'idea di Sarri è quella di giocare da squadra tutti insieme e così la squadra, magari senza avere lo stesso talento di Juve, Inter, Milan, eccetera, eccetera, può essere più forte, perché se si gioca tutti e undici insieme, per gli altri il risultato è superiore. Ed è un po' quello che è successo prima della pausa Covid alla Lazio. La Lazio non era più forte della Juventus, però la Lazio giocava da squadra, la Juventus giocava da individualisti e il risultato si vedeva. Ecco, è questa la cosa che mi piace, no? Il concetto di squadra, il concetto di giocare un calcio offensivo, ma non facendosi solo su Luisa Alberto, Ciro Immobile, eccetera, ma un gioco corale in modo tale che quando Luisa Alberto non funziona c'è un'altra soluzione e poi, ovviamente, giocando un calcio collettivo, gli avversari non possono pensare solo a Luisa Alberto e Ciro Immobile, ma devono bloccare anche gli altri e quindi si liberano spazi. E questo è, secondo me, un concetto importante. Come concetto importante è quello del divertirsi. Maurizio Sarri ha detto, io voglio tornare a divertirmi allenandomi e se mi diverto, i giocatori si divertiranno e poi si divertirà anche il pubblico. E il calcio è un gioco, un business, ma sempre un gioco. E quindi, quando ti diverti, giochi meglio, rendi di più. Ed è questo un altro concetto importante del discorso di Maurizio Sarri. E poi Sarri ha confermato che giocherà con la difesa a 4 e questo è sicuramente un aspetto importante. Ha anche confermato che per giocare 4-3 servono due esterni alti, che al momento nella Lazio non ci sono. Ha confermato che Lazzari può fare il terzino. Io non avevo molti dubbi, so che molti di voi ce l'avevano. Ha lasciato aperta però la porta al 4-3-1-2, perché senza esterni offensivi la Lazio 4-3 fa fatica. E altro concetto molto importante che ha espresso Sarri ieri sera è che lui non è un fissato del 4-3-3 o del 4-1-2. Lui ha un'idea di gioco offensiva, corale, che si può applicare sia al 4-3-3 che al 4-3-1-2, con delle differenze ovviamente. Ma non è lo schema il metodo vincente, è l'idea di gioco. E questa è una differenza secondo me importante rispetto a per esempio Zeman, che è sempre stato troppo chiuso nel suo 4-3-3. L'idea di gioco di calcio offensivo collettivo si può esprimere con vari schemi. Sarri è convinto che solo con la difesa 4 lo può giocare e quindi questo è il suo concetto base, ma 4-3-3-4-3-1-2 dipende dai giocatori a disposizione. E questo secondo me è una differenza importante, perché se la Lazio non ha gli esterni alti, beh, fare 4-3-3 sarebbe un grave errore. Ecco, questi sono i miei pensieri, voi che ne dite scrivete i commenti qua sotto. Grazie. Grazie.